Non solo meno spese e consumi, c'è anche un altro effetto della crisi economica legata all'inflazione e ai rincari energetici e anche delle materie prime. Sto parlando dell'accessione e nei casi peggiore dell'abbandono degli animali da parte delle famiglie in difficoltà. Ma accanto ai nostri amici a quattro zampe scende in campo da tempo Leida, ovvero la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente con una importantissima campagna solidale. Ne parliamo oggi con la nostra graditissima ospite, il buongiorno all'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Leida. Onorevole, buongiorno, grazie di essere qui con noi a mattina live. Lei è da sempre in prima linea scende in campo in difesa degli animali con la sua associazione che opera sul tutto il territorio nazionale per promuovere il riconoscimento dei diritti e la tutela dell'ambiente. Il mondo animale è un mondo che le sta veramente a cuore, però a che punto è questa battaglia, quanta strada ancora c'è da fare, che bilancio si può fare in questi ultimi anni in relazione naturalmente dall'associazione che le presiede? Intanto grazie per questa opportunità, operiamo come lei appena detto in tutta Italia e quindi anche nella vostra zona, anche nelle città della campagna, anche a Napoli. Abbiamo dei bravissimi attivisti, presidenti di sezione, delegati, che io voglio ringraziare sempre perché guardi, il lavoro che svolge la nostra associazione è davvero meritorio, nel senso che poi ci sono in tanti casi lacune, vuoti lasciati dalle istituzioni che se non ci fossero i volontari a colmare avremo davvero delle brutte e pessime situazioni. Dopodiché io le dico a che punto è la battaglia, dobbiamo distinguere tre livelli, nel cuore degli italiani io posso dirle siamo nettamente avanti perché quella dell'Italia è una popolazione molto amante degli animali, anche se gli italiani magari non convivono con un cane o con un gatto perché non possono, ma comunque ne vogliono vedere rispettati i diritti, siamo davvero avanti da questo punto di vista. Poi certamente succedono a volte casi di cronaca dove ci sono pazzi squilibrati che si macchiano di reati terribili, allora questi salgono agli onori delle cronache, ma non sono assolutamente la normalità. Poi dove siamo con la politica? Perché attenzione, io che ho difeso gli animali dell'ambiente da barricadera, da ragazzina fino agli ultimi anni, fino a che non sono entrata nelle istituzioni, so bene che ci sono due livelli di rappresentanza di questi interessi, quello che fai come associazione e che io faccio oggi come Presidente di Leida e quello che puoi fare dall'altra parte, cioè all'interno della politica. Ecco io ho avuto ben chiaro che le indignazioni su Facebook, i nostri cortei, tutto quello che noi possiamo fare, alla fine non arriva il risultato se non modifichiamo le normative, cioè che cos'è che mi cambia il livello di vita degli animali, la protezione dell'ambiente? Solo le leggi. E allora vengo a concludere la prima risposta alla sua domanda, a che punto siamo con la politica? Meraviglioso, nel senso che finalmente lo scorso mese di febbraio, dopo ben tre legislature che io lavoravo a questo, sono riuscita, grazie anche all'intergruppo che presiedo, a modificare la nostra Costituzione. Quindi oggi all'articolo 9, e ricordiamo chi ci segue i primi 12 articoli sono i più importanti, non erano mai stati toccati dal 48 ad oggi, bene noi siamo riusciti ad aggiungere questa frase, la Repubblica tutela l'ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità anche nell'interesse delle future generazioni e la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Questo è un risultato straordinario perché permetterà a noi legislatori, già in questa legislatura che mi vede ancora in rappresentanza di tutti gli amanti degli animali presso Montecitorio, di informare i codici, ovvero, mi spiego in una parola per essere semplice, se gli animali, la biodiversità tutta, quindi dai selvatici agli animali d'affezione e quant'altro, hanno una tutela costituzionale, vuol dire che per noi sarà più facile o comunque meno difficile inaspirare le pene per chi li maltratta uccide, piuttosto che sarà più facile o comunque meno difficile inserirli di fatto nell'anagrafe familiare, quindi garantire una mutua veterinaria nazionale in aiuto a chi è sotto una certa soglia di reddito, cioè certe cose verranno più facili. La normativa sicuramente viene in aiuto e quindi un grande straguardo e quindi bisogna essere orgogliosi e soddisfatti, però diciamo, commentiamo anche questo aspetto, vorrei farlo con lei, perché per gli amanti degli animali certamente sappiamo che le misure di contenimento previsti di scaldamento rischiano appunto di lasciare al freddo, canili, gattili per il prossimo inverno. Da questo punto di vista, se da un lato abbiamo quindi modificato l'articolo 9 e ne siamo soddisfatti, però adesso in questo prossimo inverno, adesso ne è presente, che cosa chiede al governo per tutelare appunto gli animali? Allora, è chiaro che noi oggi viviamo, e voi nella vostra zona ne sapete qualcosa, con un esercito di innocenti, di randaggi, di cani e gatti che vivono sulle nostre strade e muoiono sulle nostre strade e guardi, do solo un numero, più di 700 mila cani, più di 2 milioni di gatti, chiaramente sono stime perché il numero esatto non lo sapremo mai, ma guardi, sono stime per difetto. E dopodiché noi dobbiamo pensare che tutte queste bestiole sono al freddo, sono senza cibo e quelle che entrano nei rifugi sono solo una piccola parte. E abbiamo anche un esercito di purtroppo nuovi poveri, questa congiuntura terribile che mette insieme la crisi economica, il carobollette, la guerra, tutta questa situazione, ha fatto sì che tante, troppe famiglie, magari quelle con più figli, abbiano seri problemi anche a riempire la ciotola del proprio cane. E quindi stiamo ancora oltre il rifugio. Allora, qui noi con la manovra di bilancio che stiamo portando a Montecitorio, stiamo depositando proprio entro martedì, entro domani tutti gli emendamenti, chiediamo aiuti di vario genere. Io però gliene dico uno in particolare che trovo sia fondamentale, abbassare l'alicota IVA sulle prestazioni veterinarie. Ovvero, il nostro paese immagini che ha ancora una tassazione del 22%, appunto un'alicota IVA del 22% su quello che sono le prestazioni del medico veterinario che cura e salva i nostri animali. Ora, la salute è un diritto per tutti, per gli uomini, ma anche per gli animali. E poi mai come in questo periodo, con la pandemia ancora alle spalle o forse non del tutto, ci siamo resi conto dell'importanza del principio di One Health. Quindi una salute è la salute di tutti, di tutti noi, di tutti gli animali del pianeta. Quindi non è più possibile tastare chi fa sterilizzare il cane ed evita il randagismo, chi fa sterilizzare il gatto, chi lo vaccina, chi li mette il microchip, così anche da questo punto di vista combattiamo il randagismo. Abbiamo presentato anche un altro emendamento, oltre a questo, che abbassa l'alicota IVA, per toglierla completamente quando si tratta di sterilizzazione e microchipatura da parte delle associazioni, quindi i canili e i rifugi di cui parlavamo. Tra l'altro lei è anche sostenitrice della posizione senza gabbia, è possibile, quindi anche lo soppo dell'allevamento in gabbia, ci sono tante le battaglie che lei sta portando avanti e che cerca naturalmente di promuovere per il bene del mondo animale. Io ho depositato già 47 o 48, non mi ricordo più, proposte di legge in questa legislatura proprio per migliorare le condizioni di vita dei nostri animali e chi ci ascolta può andare sul sito www.camera.it, va a selezionare, c'è l'elenco dei deputati, va sulla mia pagina e lì alla casella attività svolta può leggere tutti i titoli e peraltro credo anche tutti i testi. Questo per mostrare come per noi gli animali siano tutti uguali, quindi gli animali d'affezione hanno gli stessi diritti e devono avere gli stessi diritti degli animali che purtroppo la gente, non io, ma tanti italiani ancora mangiano. Senta, esatto, c'è anche un altro aspetto, no? Perché appunto qualche giorno fa è balzata agli onori della cronaca la vicenda di un ristorante in provincia di Pordenone che ha servito carne di orso in Italia, diciamo, la caccia all'orso è severamente vietata, però il ristoratore dice di essere in regola, è una vicenda che lei ha definito giustamente aberrante e che allarma tutti i conti di lui. Allora, il ristoratore dice di essere in regola, lo verificheranno in AS, perché dice che questa carne è importata dalla Slovenia. In Slovenia purtroppo alcune sentenze hanno permesso l'abbattimento dell'orso in un certo numero di capi e poi evidentemente lo vendano ai ristoratori italiani perché c'è qualche cretino che pensa che mangiare un animale in estinzione sia chissà che cosa straordinaria. Ora, come dicevamo, nessun animale deve essere mangiato, ma un animale in estinzione è una cosa abertrante, l'orso perché è un animale protetto? Perché è un animale in via di estinzione, così come peraltro il lupo. E quindi non è, per quanto sia questo ristoratore, forse, in regola con le normative, ma questo è un reato comunque morale, no? Non si può mangiare un animale in via di estinzione, ma io non credo nemmeno che ci siano così tante persone che ci vadano. Penso che questo ristoratore abbia voluto farsi pubblicità, ci è riuscito perché hanno parlato di lui in tutta Italia, ma non penso che andrà molto lontano. Senta, mi trovo da una curiosità, volevo conoscere da lei questo aspetto perché, lo stiamo dicendo, lei combatte ogni forma di maltrattamento e di abuso degli animali, tante le battaglie che ha compiuto nel corso della sua vita, ma noi siamo in Italia, secondo lei oggi l'Italia è un paese per gli animali? Sì, è un paese per gli animali che ha fatto grandi passi avanti. Guardi, io ho giurato da Ministro del Turismo nel 2008 e lì in quella legislatura io ricordo che in Italia il cane non ti poteva seguire in albergo, al ristorante e quant'altro. Come Ministro per il Turismo, quindi ho promosso l'accoglienza e l'ospitalità, ho fatto sì che fossero siglati accordi, protocolli di intesa e l'Italia diventasse in pochi anni animal friendly. Mi ricordo per esempio i treni, ho siglato con la D delle Ferrovie dello Stato un accordo per cui oggi qualunque cane di qualunque Italia, anche gigantesco, può viaggiare persino in business class. Ecco, rendere l'Italia animal friendly vuol dire rendere più semplice la vita di quegli oltre 22 milioni di italiani che convivono con un animale domestico, soprattutto peraltro il cane e non vogliono e non devono separarsi da lui e quindi abbiamo fatto grandi passi avanti e tanti ne faremo ancora negli anni a venire. Anche su questo fronte ho depositato proposte di legge che semplificano la vita notevolmente di tutti noi che consideriamo gli animali dei membri. Per i nostri amici a quattro zappe, grazie per tutto quello che di bello fa per i nostri amici a quattro zappe. In conclusione, è una cosa molto importante che dobbiamo dire. Esatto, ricordiamo questo, esatto, perché Leida scende in campo per una campagna solidale, ricordiamolo, e che dal primo fino al 17 dicembre è possibile per tutti quanti noi dare un contributo concreto e donare all'associazione 2 euro inviando un SMS al numero 45589. Così come stiamo vedendo adesso in televisione, il nostro regista Salvatore Mondoa ha inviato appunto il numero di SMS per donare, donare, donare all'associazione per aiutare i nostri amici a quattro zappe. Onorevole, cosa possiamo dire ancora? Si può chiamare anche da rete fissa, vede 45589 l'SMS, ma potete fare il numero anche da rete fissa, quindi anche dal telefono di casa. Io chiedo davvero aiuto agli italiani, faccio appello alla loro generosità, perché purtroppo i costi sono tanti e noi oggi abbiamo in carico e randaggi di ogni genere, abbiamo gli animali che abbiamo ritirato al confine dell'Ucraina, che arrivano quindi dal fronte di guerra, abbiamo costi per gli stagli, le cure, i loro bisogni, i veterinari, cioè con un piccolo gesto, perché un SMS, una telefonata. Tra l'altro hanno tutti quanti il telefonino, tutti quanti abbiamo uno smartphone in questo momento, quindi possiamo farlo proprio adesso. Li citiamo 45589, un contributo reale. Onorevole, la nostra regione è da sempre generosa, quindi confidiamo davvero nei napoletani, in tutti i campani. I napoletani hanno un grande cuore, molto animalista, io lo so e lo conosco bene, quindi sono sicura che non volgeranno lo sguardo dall'altra parte, del resto avete visto gli occhioni di quel cagnolino della nostra locandina. Li vediamo, lo chiediamo al nostro regista, così ci salutiamo. 45589, 45589, grazie all'onorevole Vittoria Brambilla, presidente della Leida, per essere stata qui con noi a mattina live. Battuta flash per votare e salutiamo. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie onorevole. Pubblicità, restate con mattina live.